ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video recensione oggi con il titolo vedevi sulla copertina vi recensirò sorcery of thorns di margaret rogersson o rogersson o come si pronuncia una minima idea stampato dalla mondadori dell'oscar vault per un costo di 22 euro la copertina bellissima adoro anche che hanno mantenuto il titolo americano inglese quello che è dentro c'è addirittura una fan art e sotto abbiamo appunto la mappa di che cosa parla questo libro qua in copertina vediamo una scritta un commento di katereen arden che per chi non lo sapesse l'autrice di rosa lusignolo che dice se avete amato la biblioteca di hogwarts qui a summer shawl vi sentirete a casa allora francamente non sono amate di harry potter lo sapete tutti chi più chi meno lo sanno tutti sul canale però questo commento veramente non c'entra una fava con il libro il libro ci troviamo in questo mondo che devo sempre leggerlo perché non me lo ricordo mai che è auster mer auster mer spero che si pronunci così non ne ho idea ed è appunto questo mondo dove ci sono i maghi che sono maghi semplicemente perché stringono patti con i demoni perché se no non sarebbero maghi c'è la magia deriva dal demone praticamente c'è uno scan diciamo il demone dalla magia in cambio di qualcosa e ci sono le biblioteche che sono questi luoghi dove vengono costruiti i grimori che sono libri appunto magici e queste biblioteche sono sorvegliate dai guardiani i guardiani che sono esseri umani diciamo che odiano i maghi li reputano diciamo degli assassini dei vivitori di sangue di vergini perché c'è scritto così davvero e la nostra protagonista appunto è un'apprendista guardiana lista guardiana che viene suo malgrado diventa una criminale ok mettiamola così praticamente lei nel tentare di e grimori hanno questa particolarità se vengono innescati diventano dei mostri e lei nella biblioteca dove sta lei a summer shawl appunto summer shawl summer shawl come si dice lei in questa biblioteca diciamo questo grimorio durante la notte prende vita diventa un mostro chiamato male ficto se non ricordo male e lei cerca di ucciderlo però poi quando ovviamente accade il tutto le viene indiziata come si dice diventa un indiziata come se lei avesse commesso il crimine tutto architettato da lei no e quindi lei viene spedita nella capitale di cui non ricordo assolutamente il nome andiamo a leggercelo Bresbridge 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 non lo so come si pronuncia capitale dal famoso Nathaniel Thorns che è un mago che deve appunto accompagnare la prigioniera dal cancilliere Ashcroft tra cui la trama dice che il nostro protagonista che si chiama Elisabeth Scrivener avrà in Nathaniel vedrà un nemico all'inizio però poi diventerà un l'unico alleato in questa lotta verso questa persona che che cercherebbe di far diventare dei grimori degli esseri cattivi di Malefic Bresbridge questo libro a parte che a me piace tantissimo la copertina adoro tantissimo e avevo questa voglia di leggerlo questa voglia di leggerlo queste aspettative alte che sono state totalmente rovinate è di un confusionario pazzesco tant'è che io all'inizio andavo parecchie volte indietro perché non capivo la situazione cioè era scherzatamente tanto confusionaria che non riuscivo a capire a che punto eravamo della situazione dell'avvenimento quindi andavo indietro a leggere pensavo fosse un problema mio sinceramente per quanto riguarda il tipo di scrittura dell'autrice invece ve lo leggendo su Guterizzi mi sono resa conto che non sono l'unica di una cosa simile cioè poi dopo le prime 100 150 100-150 pagine comunque la storia è descritta meglio però all'inizio davvero ho avuto veramente difficoltà a capire dove eravamo per farci capire io non riuscivo a capire da punto A a punto B come ci eravamo arrivati che c'è scritto per carità non è che non ci sia scritto però è scritto veramente male è scritto talmente male che non lo capivo ecco questo è un fatto questo per me è un fantasy mancato poteva essere un fantasy bellissimo una storia enemies to lovers che per chi non lo sa questi sono quelli nemici che diventano amanti bellissima poi tra l'altro il mio genere preferito in assoluto legato al mondo fantasy quindi poteva diventare veramente poi legato anche ai libri dice io penso che trovi davanti un'opera simile a questo qua Magus of the library che è il manga di Mitsuzumi che ha un concetto dei libri diverso mettiamola così però anche qui i libri sono un elemento fondamentale del racconto della trama e sono diciamo la voce portante che manda avanti tutto il filone della storia non è stato così per Source of Thorns davvero 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 l'unico personaggio che mi sento di dire ok l'ho apprezzato è stato Silas che è il demone che accompagna Nathaniel Nathaniel come si pronunci non ne ho idea comunque che appunto si porta dietro Thorns è l'unico personaggio perché Nathaniel Nathaniel Nat è più piatto di un ferro da zero cioè io veramente io stavo lì a leggere e ho detto ma non è personalità zero zero assoluto l'unica cosa che ha che ho notato per quanto riguarda anche il rapporto che ha con Silas e anche per quanto riguarda la magia e anche un po' quello che fa come si comporta mi ha ricordato tantissimo per chi l'avesse visto Aul del castellante di Aul il film di Ayao Miyazaki mi riferisco al film perché il libro l'ho letto ma non me lo ricordo molto bene cioè sono legata più al film che al libro e posso dirvi e posso dirvi lo mettiamo qua volevo mettere qua ok ci sto un momento ok ci sto così parliamo bene del libro appunto mi ha ricordato tantissimo anche il rapporto mi ha ricordato molto Aul con Calcifer per chi avessi visto appunto il castellante di Aul se non l'avete visto ragazzi recuperatelo è bellissimo è uno dei miei film di Ayao Miyazaki preferiti in assoluto e appunto mi sono ritrovata a a vedere veramente un rapporto simile a vedere in Nat Aul un Aul fatto male però sempre un Aul quindi mi sembra sta veramente così Elisabeth è un personaggio insulso è un personaggio veramente odioso ed è stupido da paura tant'è che alcune scelte che fa non capiamo neanche come riesce a fare come riesce a pensarle un'assurda cosa tant'è che io ho pensato quasi che la sua storia d'amore fosse con Silas alcune situazioni mi ha ricordato molto una situazione che potesse essere d'amore con Silas che è un personaggio molto più descritto molto più profondo con proprio diverse sfaccettature per quanto sia un demone però mi ha ricordato cioè è stato molto più profondo il suo rapporto con Nat cioè la sua storia d'amore nasce dal niente dal niente ci troviamo una Nat che sembra non poter fare a meno del nostro protagonista senza un vero motivo cioè prima non la sopporta poi dal nulla ma dal nulla manco il colpo di fulmine proprio dal nulla non posso fare a meno di te cioè non dice così non è così la conversazione però io veramente ci sono rimasta perché come è possibile così come è possibile io non lo capisco non capisco veramente come sia possibile cioè io poi leggo il romance tipo Diana Premoli che sono comunque le situazioni sentimentali sono addirittura più costruite rispetto qui poi ci troviamo anche un altro problema di questo libro è il world building perché non esiste ci vengono sparati due o tre nomi e un po' di infarinatura generale della storia di questo mondo di questo mondo più che questo mondo delle delle storie biblioteche però non ci viene spiegato pressoché nulla cioè proprio penso che niente cosa che spaventa mi spaventa anche di più è che il nemico lo scopriamo prima di metà libro sappiamo già chi è il nemico e non è che c'è un risvolto che dice oh mio dio c'è tipo un colpo di scena magari c'è in realtà non è lui è un altro non è lei un altro non è così come sembra c'è un secondo fine no no così è così rimane e tra l'altro il modo in cui riescono a possiamo dirlo tranquillamente intanto non è pressoché spoiler a sconfiggere il nemico che assurdo eh Fabio sapete potevano fare così dall'inizio e invece no hanno dovuto complicarsi la vita e ci sono arrivati alla fine del libro come si poteva sconfiggere veramente assurdo giusto per sembra quasi per chiudere il libro anche se questo credo che sia il primo di una serie non credo che sia uno solo mi sembra di aver visto anche un seguito fosse una duologia ma raga è una cosa illegibile cioè io l'ho letto e vi giuro che stavo piangendo mentre lo leggevo ma non perché faceva piangere il libro fosse triste ma perché faceva schifo cioè schifo non è anche schifo proprio delusa dal libro stesso io riponevo veramente tantissima infiducia in questo libro cioè mi sono resa conto che ultimamente i fantasy che stanno uscendo ma non parlo per lo Skull Vault parlo in generale di fantasy non mi piacciono non riescono a darmi emozioni non riescono a darmi le stesse sensazioni che mi davano i libri prima per questo io adesso magari l'avete visto solamente Instagram sto leggendo Shadowhunters la signora signora di mezzanotte di Shadowhunters perché sono tornata in quel mondo in cui sono sicura di trovare una lettura che mi entusiasmi cioè io sono già ad esempio a pagina 30 forse 30 35 sono già tutta in hype per la storia questi no cioè io davvero sono stra delusa del fantasy ultimamente usciti non capisco perché infatti ci sto abbastanza lontana ahimè ci sto abbastanza lontana questo è il commento generale su questo libro io davvero non mi sento di consigliarlo non mi sento assolutamente di consigliarlo ragazzi se voi l'avete non l'avete ancora letto io consiglio sempre comunque di leggerlo per farsi un'opinione propria però questo libro rischiava veramente far venire il nuovo libro del lettore che è una cosa in cui spero di non tornare mai più però non si sa mai e davvero se l'avete letto ditemi che cosa ne pensate perché ci tengo comunque a sapere un altro parere su questo libro di non essere l'unica stupida che in realtà ho visto anche un altro una persona che seguo su Goodreads che anche lui credo che siamo lui spero non vuole dire una cretinata comunque mi ha dato ragione ho visto la sua recensione ci sono rimasta malissimo poi ho letto il libro e ho detto cavolo hai ragione hai ragione quindi ho dato più o meno lo stesso voto che ho dato lui e in realtà il mio voto è stato peggiore perché mi aspettavo decisamente molto di più e invece ho ricevuto niente quindi sono stata veramente molto scontenta di questa lettura che è una lettura ovviamente che non vi consiglio di fare buttatevi su altro davvero e con questo è tutto ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao ragazzi